Musica Si parte con una premessa. Chi tifa per Ticara sa che in questa stagione lo spazio sarà dedicato ai giovani del posto e che in panchina siede un altro giovane allenatore locale. L'obiettivo sarà quello di riuscire a centrare una salvezza. A Valsecchi arriva la borghigiana che seppur neopromossa presenta dagli ottimi giocatori tra i quali Baccaio Co. La direzione arbitrale è affidata da Alcangiari di Rimini. In avvio il per Ticara prova a fare subito la partita e il traversore di Sartini viene bloccato in tuffo da Caprini. Dall'altra parte un errore in fase di impostazione permette a Domenichelli di innescare Friguglietti per il più semplice dei gol. Balducci viene freddato così per la prima volta. La borghigiana continua a pressare la conclusione in questo caso e fuori misura. I tre tenori lì davanti giocano e si divertono. Friguglietti recupera la palla all'appoggio in direzione Baccaio Co. Balducci le spinge corte. Sulla ribattuta Bisacchi si trova in posizione di offside. Gol dunque annullato. I per Ticara a questo punto crede nel paneggio. L'ottima protezione della sfera di Alpino porta a scaricare il pallone proprio al compagno di Filippo. Ma Caprini fa buona guardia. Poco dopo lo stesso di Filippo servito sulla destra in acrobazia trova un gran gol. Ristabilendo la parità in campo. 1-1 il parziale. Gli uomini di campana giocano in soltenza ma la conclusione di Filippo non inquadra il bersaglio. Su versante opposto Val di Noci innesca Baccaio Co. che sul fio del fuorigioco brucia la difesa di Iperti Cara trovando facilmente il nuovo vantaggio. Domenichelli in assolo personale. Poco dopo viene steso in pinale di rigore. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dagli 11 metri Baccaio Co. non sbaglia. Per il momentaneo 1-3. Iperti Cara è in bambola. Dopo un retropassaggio giudicato involontario Balducci raccoglie il pallone con le mani. L'arbitro decreti in questo caso una punizione a favore della borghigiana. Della stessa se ne incarica Frigolietti che sigla il poker. In fine di prima frazione lo scatenato Baccaio Co. pecca in fatto di freddezza. Balducci evita pericoli maggiori ai suoi. In pieno recupero Iperti Cara crea due palle da gol. La prima dopo un batte di batti e Morciano a trovare sulla propria strada Caprili. Infine Biordi deposita la sfera a fondo campo. Nella ripresa la punizione di Filippo viene toccata in ale da un tocco di mano della barriera. L'arbitro fa segno di proseguire. Biordi invece dall'altro lato sfira la marcatura con una conclusione che termina fuori. Monologo Perticaresi che prosegue Alpino e Di Filippo scambiano ma trovano sulla propria strada Caprili a chiuderli lo specchio della porta. Infine ci prova anche Sartini ma Caprili c'è. Il pressing del Perticaresi prosegue Alpino riceve palla dentro l'area di rigore e viene toccato da Gerardi. Ma l'arbitro anche in questo caso fa segno di proseguire. Ci prova nuovamente Biordi senza trovare fortuna. Alto cross e alto tocco con la mano dentro l'area di rigore. Nulla da fare. Perticaresi forse un po' penalizzato. Borghigiana che non perdone dall'altra parte trova la cinquina con il solito Bacayoko. Davvero bravo l'attaccante della Borghigiana. Nel finale Balducci risponde a Severi e Caprili a Di Filippo. Fine dei giochi. Borghigiana si dimostra segno alla squadra con ottima individualità. Figuietti e Bacayoko sono due spine ma anche i tocchi domenichelli delizzano il palato del pubblico. Iperticaresi è giovane e probabilmente si formerà ma occorre dire che su tre episodi in area di rigore qualcosa bisognerà pur fischiare. Nulla toglierà ovviamente la vittoria degli ospiti. Iperticaresi da registrare specie in fase difensiva. Dieci gol in due giornate sono un po' troppi.